Per preparare una crema pasticcera per farcire dolci e torte o per gustosi dolci al cucchiaio inizia versando in una ciotola 200 grammi di zucchero semolato e 5 tuorli. Usa una frusta a mano per mescolare bene il composto e quando arriva ad un giallo pallido, setaccia 40 grammi di amido di mais. Se vuoi una crema con un aroma intenso di vaniglia, a questo punto mescola nel composto la polpa di una bacca di vaniglia. Mescola bene con la frusta a mano per evitare la formazione di grumi e versa un goccio di latte. Versa il resto del latte per un totale di 500 millilitri in un pentolino. Se vuoi un aroma di vaniglia più delicato, al posto della polpa di vaniglia puoi aggiungere, nel latte, una bacca di vaniglia a cui hai già eliminato i semini. Altrimenti, prima di portare il pentolino sul fuoco, puoi aggiungere scorza di limone o d'arancia. Quindi porta a ebollizione su fiamma media. Appena il latte bolle, spegni il fuoco, elimina la bacca di vaniglia o la scorza di limone o arancia e preleva un paio di mestoli di latte per mescolare meglio il composto con i tuorli. Quindi versa tutto nel pentolino e riaccendi il fuoco a fiamma bassa fino a quando la crema si addenserà. Al primo bollore o al raggiungimento di 84 gradi centigradi, toglie la crema dal fuoco e versala subito in un contenitore largo e basso. Se vuoi aggiungere una gradevole nota alcolica, puoi aggiungere dai 2 ai 4 cucchiai di maraschino se hai usato la vaniglia, gramma arnie se hai usato la scorza d'arancia e lemoncino se hai usato la scorza di limone. Lascia raffreddare coprendo con pellicola trasparente e conserva al massimo 2 o 3 giorni in frigorifero a 4 gradi centigradi. Ricorda che in base all'utilizzo che vorrai fare della crema dovrai aumentare o diminuire la quantità di amido per regolare la densità della crema pasticcera. Una crema da farcitura necessita di una densità minore, mentre una crema per guarnire ha la necessità di essere più densa e stabile. Se vuoi alleggerire la crema puoi aggiungere della panna montata e quindi ottenere una diplomatica mescolando delicatamente nella crema 250 ml di panna montata. Guarda il video consigliato e iscriviti al canale. Grazie. 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 Grazie.